Mettere al centro i consumatori e il lavoro ben fatto delle imprese significa valorizzare la qualità, la qualità del lavoro artigiano, significa valorizzare la serietà del rapporto tra imprese e consumatori e anche questo è sostenibilità. È un accordo innovativo perché può allargare tutta quella gamma di certificazioni che permette al consumatore di essere sereno nei suoi acquisti e nei suoi servizi e alle imprese di poter essere ancora meglio performanti e poter avere accesso anche a strumenti di credito per migliorare le loro performance aziendali. Col progetto Mi Fido la nostra intenzione è di valorizzare la trasparenza e la correttezza delle imprese artigiane attraverso una apposita certificazione che li renda affidabili nel confronti dei consumatori e ci auguriamo che questa certificazione possa avere valore anche nell'affidamento dei piccoli appalti pubblici. Sono particolarmente felice che questo progetto sia nato proprio qui a Milano dove questi obiettivi sono davvero il cuore di quello che cerchiamo di fare come amministrazione comunale e poi perché rappresentano un'opportunità per promuovere il rispetto per la nostra città, la sostenibilità ambientale che ci sta particolarmente a cuore ma anche la sostenibilità sociale. Sono tutti dei temi su cui come amministrazione comunale stiamo cercando di muovere davvero tanto e ci stiamo provando. È bello vedere che in questa occasione Milano può tracciare una strada con un progetto così innovativo che sono sicura possa essere presto preso a modello anche da altre città.